Il LARCS resterà alla Fonda Egumenizza per non meglio specificati problemi al motore e disguidi amministrativi, almeno fino al 19 agosto. La società me l'ha comunicato ufficialmente, se ci sono turisti destinati in Grecia, di organizzarsi in maniera alternativa, anche perché la stessa società che gli ha venduto i biglietti, che si sta adoperando per cercare di ripararli da qualche altra parte, ma il numero è talmente elevato e sono tutti pieni adesso. Saltano cinque corse, niente vacanza per circa 3.000 persone. La Capitaneria rinnova l'invito a non venire qui alla cieca. Il problema di venire è quando si è sicuri di avere la possibilità di imbarcare su qualche posto libero che è rimasto, ma soprattutto il ritorno, di organizzarsi anche per il ritorno, che il 19 siamo ormai dopo Ferragosto e quindi prevedo e presumo che alla fine di Ferragosto ci sarà un gran rientro. Questo è il nucleo dell'incontro in autorità portuale per ricostruire una vicenda, per dirla con le parole del presidente Ralambides, vergognosa, lesiva dell'immagine del porto e della città. Molti passaggi da chiarire, certi risvolti giudiziari in sede civile con un'imminente pioggia di ricorsi e richieste di rimborso e penale. La lente della procura intanto è già stata puntata sul comandante della motonave battente Bandiera Cipriota, che non avrebbe fornito informazioni corrette sul guasto tecnico all'origine di un fermo, preceduto da una serie di episodi preparatori in corso dal 26 luglio. Tuttavia si è continuato a prendere prenotazioni e ancora oggi sul sito dell'Agenzia Marittima c'è la possibilità di acquistare biglietti per il traghetto fantasma.